Era un'edizione speciale, la nona del pellegrinaggio sul sentiero francescano nei tre giorni di cammino tra Sisi, Valfabbrica e Gubbio e tale si è rivelata per la concomitanza dell'evento con la giornata nazionale della custodia del creato culminata nella celebrazione eucaristica alla chiesa di San Francesco dopo l'arrivo dei pellegrini trasmessa in diretta su Rai 1. Il maltempo non ha firmato le oltre 150 persone che sono giunte a Gubbio dopo le tappe di Valfabbrica e San Pietro in Vigneto prima alla chiesa della Vittorina nel Parco della Riconciliazione dove Suor Daniela della Comunità delle Sorelle del Piccolo Testamento ha illustrato il valore e il significato di questo luogo tra i componenti del folto gruppo di pellegrini anche esponenti istituzionali come il sottosegretario all'interno Gian Piero Bocci accompagnato dal consigliere regionale Gubbino Smacchi e il sindaco di Assisi Stefania Proietti Quindi la carovana, cresciuta in numero superiore alle 250 unità per la presenza dei giovani delle CSI si è spostata alla chiesa di San Francesco sotto l'attenta guida dei volontari della piccola accoglienza della diocesi coordinati da Simone Minelli che hanno curato il coordinamento dell'intera organizzazione logistica dei tre giorni Nella sua omelia Monsignor Cecco Belli ha ricordato come la giornata che celebra la custodia del creato debba ispirare ad un turismo sostenibile esortando non solo i fedeli ma anche gli uomini responsabili delle sorti dell'umanità a custodire e difendere il creato palessemente in fase di pauroso degrado ed epauperamento poi ha ricordato come il primo pellegrino sia stato proprio Francesco d'Assisi probabilmente attratto dalla fama di santità ottenuta da pochi anni dal Vescovo Ubaldo e abbia scelto Gubbio come meta per la propria conversione per chiedere la sua mediazione con l'Onnipotente la celebrazione è stata accompagnata dai canti dei cantores Beati Ubaldi diretti dal maestro Renzo Menichetti e si è chiusa con un pranzo dei pellegrini nel chiostro del convento preceduto da un'applaudita esibizione del gruppo Sbandieratori che ha saputo regalare come di consueto una serie di evoluzioni con le bandiere inneggianti simboli delle tavole ugubine e con un numero speciale ispirato all'arrivo del poverello a Gubbio accolto dall'allora Vescovo Beato Villano proprio nel luogo dove oggi sorge la chiesa di San Francesco il pomeriggio è stato poi caratterizzato dalla consegna di un premio speciale la certificazione del Guinness dei Primati per lo spagnolo Alberto Castellò via andante in cammino per la pace da più di tre anni sui sentieri europei dalla via di Francesco ai cammini lauretani la via francigena passando per Santiago, Meggiugori e Gubbio per lui la bellezza di 1531 timbri pari a oltre 25 metri di carteggio distessi lungo tutto il chiostro interno del convento di San Francesco una misurazione che ora sarà sottoposta per il riconoscimento ufficiale mi ha messo un cammino in un momento brutto della mia vita che oggi è diventato la cosa più bella io cercavo, dopo tutte le cose brutte, di ritrovare un posto in un altro paese di Spagna e non ho trovato questo posto, però ho ritrovato il cammino di Santiago ho fatto un cammino, ho fatto un altro, un altro fino a girare tantissimi durante quattro anni e questa è stata l'esperienza più bella della mia vita nel mio cammino devo ringraziare tanto a Dio, alla provvidenza perché a questo momento difficile penso che le creiamo noi, che non esistono noi creiamo tante barriere avanti a noi che ti fermano nella vita e non esistono perché io posso dire che in quattro anni non è stato un solo refredo solo dolore muscolare l'ho sentito del camminato con un caldo di 50 gradi fatto forse 50 chilometri con fredo, con nevica, con il ghiaccio con il vento forte che ti butta di qua di là e a quello la natura Infine la tre giorni si è chiusa con il convegno organizzato dal Masci Movimento Adulti Scout che ha presentato la guida volume con la presenza del presidente nazionale Sonia Mondin e del vescovo auxiliario di Perugia Monsignor Paolo Giulietti introdotti dal presidente regionale del Masci Renzo Angeli Ci sentivamo veramente di non mancare a questo appuntamento in modo anche un po' diverso che è stato quello di presentare un libro a chiusura di quella che è questa bellissima tre giorni dedicata a una riflessione sul creato e che appunto il movimento adulto scout non poteva mancare un libro che è stato scritto dalle comunità umbre del Masci Umbria appunto sui Benedettini Umbria Natura e Spiritualità è un bellissimo lavoro che va a recuperare anche quella che è la spiritualità di un grande santo oltre appunto San Francesco che San Benedetto è suddiviso in queste due parti la prima parte che va a recuperare quelli che sono appunto i luoghi Benedettini di questa terra e la seconda parte appunto sono le esperienze Nel corso dell'incontro è intervenuto anche il consigliere regionale Claudio Ricci che apprezzando il lavoro svolto ha preannunciato che lo utilizzerà per rafforzare la candidatura dei siti Benedettini Umbri ben 250 a rete tutelata dall'UNESCO